E' in corso di svolgimento all'Ocri la fase macro area squadre under 12 maschile. I campi in terra battuta del circo della cittadina dell'Aionio Cosentino stanno ospitando quindi i migliori tennisti fino ai 12 anni provenienti da tutto il centro-sud. In campo al dei migliori squadre di Basilicata, Calabria, rappresentata da Cosenza, Molise, Puglia e Sicilia. Una quattro giorni dunque nel corso della quale verrà decretata la migliore squadra del centro-sud ma anche un'occasione di confronto per i piccoli atleti. Questi sono momenti importanti, il confronto in tutti i campi ma nello sport in particolare è un momento questo di crescita certamente. Guardano, hanno la possibilità anche di allenarsi nei momenti in cui praticamente non ci sono gli incontri e hanno la possibilità anche di cimentarsi con questi ragazzi che vengono da fuori regione. Il livello è veramente molto buono e siamo molto orgogliosi e molto fieri di ospitare questi ragazzi. Il torneo è molto importante, spero che dia visibilità anche al nostro circolo. Il nostro è un circolo antico, ha più di 50 anni di storia, siamo in una piccola realtà però riusciamo a fare tennis a buon livello.